Hello guys, benvenuti in questo nuovo video, finalmente riesco a caricarvi dopo tanto tempo la decklist del 6 samurai che mi avevate chiesto per il formato ovviamente Tengu Plante dato che vedete il Kizan, ci tenevo a portarlo in real anche perché è uno dei mazzi che più ha avuto impatto sulla mia infanzia, non sono stato un six player assurdo ma lo era diciamo era fissato un quanto meno uno dei mod del canale, anche uno degli amici più stretti che ho con il quale appunto giochiamo a Yu-Gi, quindi probabilmente vedrà questa lista e come al solito se avete richiesta per qualche altra decklist in particolare come mi sarà chiesta quella del Chaos Piper con il reparto Plante che nel caso andatevi a recuperare la versione che ho caricato in precedenza scrivetemela qui sotto nei commenti e quanto prima cercherò di caricarle se possibile anche in real come in questo caso e soprattutto se non siete iscritti al canale vi piacciono questo tipo di contenuti ma anche unboxing di prodotti vintage quindi abbastanza vecchiolti o anche coreani come il codesto che potete anche recuperare sul canale iscrivetevi lasciate un mi piace un commento dato che supporta enormemente il mio lavoro ma detto questo direi di passare direttamente alla decklist quindi mettiamo un momento Shien da parte e iniziamo con il reparto mostri quindi abbiamo i tre Kizan che possiamo evocare special dalla mano se controlliamo un mostro diverso sei samurai il Kagemusha, ops, il Kagemusha in tre copie che riguardo questa carta due cose allora la prima è che questa rarità vi giuro pare presa da Wish cioè lo so che è una super grazie al cavolo però con sta scritta non lo so pare è una carta falsa e l'altra è che in italiano diciamo è stato tradotto male perché come potete vedere da Kizan Kizan effettivamente Kizan sei samurai leggendario lui è il Kagemusha dei sei samurai non fa parte di sei samurai e se ne andate a contare poi effettivamente ne sono sette quindi lui è il Kagemusha dei sei samurai che è un'altra figura e quindi incredibile anche le nozioni storiche su questo canale mamma mia quanta cultura abbiamo due elder of the six samurai e due Kageki che praticamente lui è un cyber drago mentre lui vabbè si si può pompare di 1500 se controlliamo un sei samurai con nome diverso ma soprattutto ci fa evocare un mustro sei samurai di livello 4 o inferiore della mano quindi di solito andiamo a fare lui con il Kagemusha per l'appunto per fare subito il nostro amico Shien e a proposito di maestri dei samurai abbiamo il gran maestro dei sei samurai Enishi che per chi non lo conoscesse fa praticamente da compulsory nel turno di qualsiasi giocatore rimuovendo due sei samurai dal cimitero e se controlliamo altri due six che non sono Enishi guadagna 500 punti di attacco e difesa che schifo non ci fa poi per favore questa è una richiesta mia se giocate six samurai dovete giocare il grande Shogun Shien per quale motivo? praticamente questo crea la lock combo con il nostro amico l'altro Shien praticamente lui può negare una magia o trappola come effetto rapido lui invece ci permette di far attivare all'avversario soltanto una magia o trappola per turno il che capite bene che crea una comba assurda fra questi due lui lo può evocare special se hai due sei samurai sul terreno e oltre può anche prevenire la distruzione spaccando un altro sei samurai scoperto ovviamente quindi secondo me dovete giocarlo per forza perché è veramente troppo troppo forte e infine come i vostri gioco anche due healer come handshap che caso che non dovessero piacervi anche se ormai sono reperibili quindi anche per questioni economiche potete tranquillamente togliere e mettere di side e sostituirli eventualmente con la fiendish chain caso che non abbiate soldi per recuperarvi questi o non avete sbatti di ordinarli quindi vi ritrovate le fiendish chain fra le carte e quindi ora passiamo direttamente alle magie le magie abbiamo tre ascetismi troppo troppo forti ovviamente i sei samurai uniti gateway e il segnale di fumo scien che sono entrambi limitati e rota quindi abbiamo un bel po' di reparto per darci roba io gioco a 41 carte ragazzi quindi potreste anche calcolare di togliere una delle prossime carte che vedrete poi vabbè gioco due tifoni la tempesta potente il reborn, il darkone, il mind control e il book of moon questi alcuni scelgono di non giocarla io personalmente preferisco farlo per un semplice motivo dato che di mostri livello 4 obiettivamente in tengu ce ne stanno parecchi quindi vogliamo togliere anche carte come il tengu risuscitato per non fargli bloccare l'effetto vogliamo toglierci il thunder king dalle palle usiamo questa e ci evochiamo un sei samurai livello 4 che è vabbè il kizan oppure semplicemente vogliamo fare synchro perciò il shirryu vabbè è molto contestuale la cosa questa è una carta veramente utile anche perché siamo diciamo abbiamo abbastanza tu il fly bail e il kagimusha per l'appunto quindi questo è il reparto magia che è anche abbastanza stable reparto trappola infine abbiamo la tecnica della spada bilama che è praticamente un reborn OP gioco mono di questa che è veramente forte per un semplice motivo perché è una counter trap quindi può essere legata praticamente solo da solennone, dark bribe, insomma altre counter trap secondo me monocopia è sempre forte gioco doppia prison più una mirror force e queste diciamo sono le carte che più ero indeciso se tenere ora in questa prima versione che ho caricato sul canale ho deciso ugualmente di metterle però secondo me potrebbe esserci di meglio nel senso che prison in questo formato non è così forte come possa sembrare perché appunto abbiamo tanti tango abbiamo tanti spakling abbiamo tifone 3 insomma è facilmente aggirabile tuttavia rimane una carta forte contro un eventuale tg o mazzi che hanno ciccioni grossi come drago per l'appunto ma anche semplicemente per aiutarci a toglierci i ragli occhi che dà un sacco fastidio a questo mazzo qui e mirror stessa cosa meno male poi gioco vabbè staples sono warning un giudizio solenne e una dash shot caso che dato che sono 41 carte non abbiate soldi per procurarvi questa perché obiettivamente costicchia vi consiglio magari di o togliere questa oppure giocarvi queste di side e trovarvi un'alternativa come magari il compulsory stesso o il tributo torrenziale che io sinceramente non ho voluto inserire all'interno di questa lista perché SIX è un mazzo che spam evocazioni e difficilmente diciamo abbiamo lo spot per poterci permettere secondo me il tributo torrenziale ovviamente testando potreste incaparmi la stessa cosa ma questa diciamo è la mia idea infine passando ad extra deck abbiamo ovviamente Shien, Naturia Bestia, Naturia Barchion e Naturia Landoise questi sono quelli che almeno io giocherei sempre in SIX forse lui un pochettino meno questione dei gusti ma questi principalmente sono quelli che vedrete in ogni lista soprattutto loro due nel particolare ma anche lui non scherza quindi poi abbiamo un po' i classiconi del Catastro il Brionac Lorien Dragon che potreste anche togliere l'eventualità non mi piacesse io ho deciso di tenerlo perché la reputo una carta veramente forte il Black Rose Dragon potete mettere l'Ancient Fairy Dragon nel caso Dragobolveri di stelle Colossal Fighter Scrap Dragon Trishful ovviamente e poi il Roach, l'Utopia e il Leviathan Dragon Caso che appunto non vi piaccia lui potrete pensare di sostituirlo o con la carta che vi ho accennato prima o con il Leviair scusate perché praticamente può scombare con Ennisci nell'eventualità quindi vi rimuovete due SIX e li potete rievocare sul terreno che non è una brutta cosa di base infine Side Deck gioco due Cyber Draghi con il Chimera Tech di Side nell'eventualità potete anche pensare di inserire direttamente lui come quindicesimo doppio Max C che volevo portare onestamente a 3 ma non sono riuscito a trovare spazio e vi spiegherò anche il motivo due risucchiare la luce vabbè si commentano un po' da solo contro Agent spaccatura dimensionale perché vogliamo proprio cacare il cazzo ai mazzi sul cimitero il terzo tifone doppia debunk questa secondo me è una carta quasi obbligatoria in SIX Samurai per un semplice motivo perché soffre tanto da questa cartina qui è veramente forte contro plant è forte inteso tenku plant quindi secondo me dovete per forza giocarla e infine tre rivalità dei Signori di Guerra perché sì il side va fatto per cagare il cazzo e noi lo facciamo bene così all'inizio giocavo le lance proibite ma alla fine ho deciso di no dato che obiettivamente abbiamo il Shien che può negarci le cose e soprattutto se abbiamo anche il grande Shogun Shien praticamente lancia proibita su cosa dovreste attivarlo se vai a negare appunto la magia o trappola certo ce ne possono essere due contemporaneamente che potrebbero rompere i coglioni in caso che non ci sia il grande Shogun Shien però per l'appunto secondo me è meglio impostare così il side deck per questo mazzo io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto vi ripeto caso che abbiate qualche richiesta in particolare per qualche decklist per il formato Tengu Plant Edison quel che sia scrivetemelo qui sotto nei commenti ad diciamo non ho proprio tanta pratica rispetto ai primi due formati citati quindi caso che abbiate richieste del genere per Tengu o Edison fatemelo sapere qui sotto nei commenti di conseguenza vi ringrazio ancora per aver guardato il video fino a questo punto e ci vediamo al prossimo video che sia un unboxing una profile non lo so see you next time tschiu